Dopo migliant'anni siamo tornati e vi giuro registrare con le finestre chiuse perché altrimenti sentono i rumori sulla strada non è bello fidatevi Scusatemi per l'assenza ma ho avuto problemi personali da risolvere e piuttosto che registrare mojo mojo come un utente di Tumblr non ho fatto video sono un cretinato tipo quella di New Age che tornavo giusto per dirvi ehi stavo tornando comunque aggiornamenti sulla squadra mi sono ricordato di aver catturato maciocca nella scorsa parte e Cristo mio Dio è al 25 e beh poi ci sono sempre i soliti e anche Zimbabwe è scritto sbagliato dove dovevamo andare? ah già eravamo stati notati dai tipi del team non mi ricordo cosa perché da così tanto che non gioco che oh mio Dio un selvatico devo abusare di questo maciocche per vincere altrimenti vengo recchitato miseramente dove pensi di andare? idiota scusa se è meglio tu che non sono altro che quelli del team plasma ah a proposito ho trovato mentre ero da Flavio a caso per qualche giorno siamo andati alla GameStop e ho trovato Pokémon bianco 2 a una modica cifra di 5€ e vi dico che cazzo è successo e vi giuro che non ho potuto resistere l'ho preso e sapete cosa vi dico se quelli fossero questi i primi giochi della quinta avrebbe fatto un successo enorme ma parecchio enorme è bellissimo bianco e nero 2 sono bellissimi giocateci diffilate dal fatto che siamo di quinta sono anche Pokémon delle altre generazioni anche molte altre aggiunte giocateci va date seguire i gameplay di Dlarz tanto so che lo sta facendo in questo periodo quindi oh mio Dio poco hai spammato video di entro youtuber sì sicuramente per ottenere i big money da parte loro no solamente che è interessante seguitelo vi fate un'idea di come sia il gioco e poi lo prendete o al massimo fate gli A che ve lo scaricate illegalmente e lo emulate oh no un passoroccio ancora ma perché velocizzo il gioco poi non li noto vabbè mori eh? scaf oh no aspetta in verità aspetta bene beh hanno messo anche fake money già qualcosa non è facile mettere i fake money più che altro crearli deve avere un'immaginazione esagerata immagino quelli di Pokémon Garnet come abbiamo fatto a fare tutto quel fake Dex se non sapete qual sia Pokémon Garnet vi lascio un link qua sotto perché so che non siete capaci a cercare su Google vero? quindi tu sei la persona di cui mi hanno parlato devo ammettere che mi aspettavo qualcuno di più forte non importa tempo di finirla e più nello specifico di finire te oh we got a bedes over here shit allora ma dai ah sacrificati per la patria ottimo lavoro ah ma beh ma chi se ne frega dai attaccami no ho detto attaccami vabbè è morto comunque chi se ne frega yeah la missione non posso crederci perché sei ancora qui lasciami stare ce ne andremo ma ricordati una cosa tornerei mmm sì perché mi guardi in quel modo no lasciami stare bastardo la pagherai per questo lo giuro Barry City e salva non so come io li abbia uccisi sembra che gli abbia tirato una una genkidama dal rumore che ha fatto e sre e infatti ciao straniero benvenuto nel labirinto ok oh grazie ma questi sono tais di minish cap buh oh i i i i i i oh oh che figata ovviamente devo catturarla e chiamarla entai no no non ci credo è questa è una casa Che aveva fatto uno spryter E un tessetter italiano Che si chiama Dinky Vai a cagare Cos'è Demon Bay E' tornato da Snakewood Danny Danny boy Aru Danny Here Johnny No 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 Aru Danny Oh bene Twitter Evolviti pure vai Strano Che cavolo dovrei dire io Oddio Ok Ho finito E' ciò che penso che sia Ancora quel Non ho tempo per giocare con Tedra Brutto Mi hai rubato la bacca Cosa vuoi? Facciamolo E vai Ok mori ciao Qual era? Ho davvero una bacca salacca Ottimo What the fuck Mi si è bloccato il gioco What the Ah Penso sia la fine della beta Penso Però Cioè lo spero più che altro Perché non l'ho salvato dopo questo Si deve essere la fine Me l'avevo tipo Flavio Non mi ricordo Vabbè Signori La serie Si conclude qua Perché appunto era una beta E Subito dopo questa A distanza di qualche giorno Fatemi giusto registrare Perché Inizierò una nuova serie E lo spoiler L'ho già messo Sulla nostra pagina Facebook Date pure a leggere Perché si è riavviato a caso E vabbè Signori Adios 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 E A presto. A presto.